Anche oggi come vede c'è tanta gente, ormai è diventato un appuntamento fisso alla quale la gente non vuole mancare e diciamo che questo è un impegno che tutta la comunità aretina si è presa appunto a tutela della nostra salute. Una grande festa colorata nonostante la minaccia del maltempo. La giornata per il calcit nel centro di Arezzo con la sessantenne medizione del mercatino dei ragazzi ha richiamato come sempre tanti aretini e non solo che hanno raccolto l'appello e le finalità del mercatino verso la solidarietà e la beneficenza. Tra le tante curiosità in vendita anche le maglie e le scarpette dei giocatori della Serie A su tutte quelle del Napoli. Merito di Francesco Calzona, meglio conosciuto come Ciccio, da sempre molto legato al mercatino del calcit. Il collaboratore, il secondo allenatore del Napoli di Maurizio Sarri, ha raccolto quindi l'appello del calcit di Arezzo inviando nella sua città di origine alcuni materiali tecnici dei giocatori del Napoli ma anche quelli dell'Empoli come Maccarone, Valdifiori e Laurini e poi c'erano i cimieli di Pepe Reina, Lorenzo Insigne e Marem Kanzik. A far manbassa degli oggetti azzurri è stato il fan club Partenopeo o Sarracino di Arezzo facendo fruttare un incasso di oltre 210 euro. Alle 17 è partita poi la grande asta per la maglia originale e autografata del Pipita Gonzalo Higuain miglior marcatore della Serie A italiana di calcio la cui maglia è andata all'asta ed ha permesso così di incrementare l'incasso che sarà devoluto al calcit. Non ci piacerebbe arrivare almeno ai 122 mila euro che ci permette di pagare la tomosintesi che è una diagnostica per la senologia di Arezzo che abbiamo già comperato ed è già funzionante.